Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video di Fortnite, del nuovo fumetto, il volume 3 Finalmente mi è arrivato stamattina, però ho aspettato l'ambito che sono con la mia ragazza oggi Ciao a tutti Ci fa accompagnare lei oggi, e l'ho aperto con lei C'era la carta ovviamente, anche su questo qua, solo che l'abbiamo tolto per vedere se c'era il codice E c'è tutto Andiamo un attimo ad analizzare Il fumetto Vi faccio vedere velocemente quello che c'è In questo capitolo praticamente si vede Batman che ha uno scontro pesante contro la Skinny Snake Vi faccio vedere velocemente, che poi andiamo sempre a fare vedere il riscattacodice e il tutto C'è ancora Harley Quinn, ma non è morta ancora Ecco la pubblicità dei fumetti Ecco Poi fanno pace comunque Poi si ammazzano e poi fanno pace Ecco, è questo qua la skin che c'è col torneo il 27 Si vede che prende ostaggio a Catwoman Ecco, questo qua sarebbe il fumetto che poi uscirà, sarebbe il fumetto numero 3 che esce in versione speciale Che costerà di più, la versione nera E poi altre pubblicità, il fumetto finisce così Questo è il quarto Che dovrebbe uscire il 10 giugno Dovrebbe arrivarmi E questo qua è il codice Che adesso andremo a riscattare al computer Babini? Si E questi qua sono gli altri Numero 2 e numero 1 Ci vediamo al computer Ok, siamo nella schermata per riscattare il codice Basta scrivere Fortnite codice o codici E vi porta direttamente qua Fate il login sul vostro account Quello là in cui avete riscattato tutti quanti i codici Se no vi ricordo che se non avete tutti e sei i codici riscattati su un account unico Non avrete la skin di Batman e un corazzato Una volta che mettiamo questo è il codice Facciamo riscatta Ok, Catwoman Il piccone di Catwoman Attiva Ce l'abbiamo fatta Torna alla home Ok, in questo momento adesso possiamo andare alla play Avremo direttamente la ricompensa che ce la dà una volta che accediamo Quindi ci vediamo alla play Ok I tuoi acquisti sono stati riscattati Ti aspettano Come sempre Quindi abbiamo fatto tutto correttamente Eccolo qua Rambino di Catwoman Fa un bel rumore Ok Vi ricordo che una volta che voi avete questo qua gratis Grazie al fumetto con i 3 euro Automaticamente la skin di Catwoman La potete comprare a soli 700 V-Bucks E potete avere la skin di Catwoman Vedete? Invece di pagarla a 1200 la pagate a 700 Io in questo momento non la le ho Ma non so Penso che devo fare una ricarica Perché poi c'è il pass Quindi penso di prenderla Per 700 V-Bucks conviene Va bene Il bundle di Bat E niente Questo è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti da Tiger Ciao a tutti Grazie a tutti.